Eccoci, ci risiamo, la solita ipocrisia delle femministe di sinistra. Le boldrini, murgia, giornalisti, opinionisti, parlamentari, tutte paladine dei diritti delle donne. Però sono buone a mobilitarsi solo quando qualcuno attacca loro. Non una parola invece, ad esempio, contro il candidato governatore del PD Eugenio Gianni che in un'intervista al Corriere Fiorentina ha definito il suo avversario del centrodestra, donna, Susanna Ceccardi, al guinzaglio di Salvini. Silenzio. Vergogna. Vi ricordate quante storie Soma Deus che aveva lodato la compagna di Valentino Rossi perché, capace di sapere stare un passo indietro, una malanga di proteste e polemiche, questa volta non si è parlato di stare un passo indietro. Si è detto di una donna che sta al guinzaglio, non un passo indietro, ma al guinzaglio, come una cagna. Ma le femministe intermittenza non si sono scandalizzate. Perché? Perché l'offesa arriva da uno del PD ed è rivolta alla candidata del centrodestra. Neanche il segretario toscano del PD, anche lei donna, Simona Buonafè, ha detto una parola. Silenzio. Il PD Eugenio Gianni, dopo l'offesa sessista alla Ceccardi, non solo non ha chiesto scusa, ha fatto pure peggio. Ha scritto che non accetta lezioni dalla destra. Come dire? Che le donne non si possono offendere solo se sono di sinistra. Ipocriti, fomentatori di odio, questo siete. Siamo noi di Fratelli d'Italia che non accettiamo lezioni, cari sinistri. Forse vi è sfuggito, ma l'unico partito guidato da una donna in Italia è Fratelli d'Italia. Le chiacchiere stanno a zero. Siamo fieri di essere guidati da una donna, Giorgia Meloni, che sta ottenendo risultati e consenso. Senza Quaterosa, per merito. Non se ne fanno una ragione. L'hanno insultata, dandole dimenticata. Le hanno augurato la morte, attaccata sul suo aspetto fisico subito dopo che aveva partorito. Dove erano tutte le femministe e le migliaia di volte che Giorgia Meloni veniva offesa in quanto donna? Cosa dicevano? Niente.